La cittadinanza attiva Dunque mediante il servizio sociale integrato Ad individuare tra gli utenti in carico Che seguono un progetto assistenziale personalizzato Quelli propensi a svolgere attività di volontariato E di indirizzarli così alla delegazione a rettina del CESVOT Un rapporto proficuo e nuovo Forse l'unico a livello toscano di sicuro Forse anche a livello nazionale Di un accordo stretto con il CESVOT Che permette di trovare una sintonia forte Tra chi riceve un aiuto e ne ha diritto E però il volontariato di questa città E' un modo per dire grazie a chi dà una mano Ma soprattutto per permettere persone in disagio Di incontrare il grande valore del volontariato E' evidente che le situazioni di disagio e di povertà Purtroppo vanno aumentando anche a livello locale Per cui è evidente che al mondo del volontariato Si chiede un'attività ulteriore rispetto a quella Che solitamente è abituato a dare Il ruolo del CESVOT Noi saremo importanti nell'individuare Le associazioni di volontariato Alle quali indirizzare le persone Che daranno la loro disponibilità A operare nel mondo del volontariato Su richiesta del Comune Non in cambio Ma come in qualche modo Dimostrazione di capire Il senso dell'aiuto pubblico Che ricevono Quindi per noi è comunque un impegno ulteriore Che cose sono Quindi per noi è un impegno di allegro